Cambio di gioco in direzione di Pierno, sale anche Delvino, ora Pierno il lacrospasso, la girata di Patierno, lo palerrete, il raddoppio della Virtus Francavilla, esattamente al dodicesimo minuto nel corso del secondo tempo con il quinto centro di Cosimo Patierno e dunque cambia il parziale alla nuova Redo Arena, Virtus Francavilla 2, Palermo 0 e Cosimo Patierno va a raccogliere l'applauso della sua curva. Per il suo quinto centro stagionale aggancia al secondo posto della classifica marcatori Mastro Pietro, azione di rimessa della Virtus Francavilla, conclusione radente di Patierno che non ha dato scampo a Pelagotti e dopo un inizio di ripresa difficile per il forcing del Palermo la Virtus Francavilla ha trovato il gol del raddoppio con una conclusione.